Castrovini è un giocatore di questi tempi, un giocatore completo, che oltre alla corsa, al fisico, ha anche fantasia, quindi insomma, un giocatore di oggi che abbiamo la fortuna di avere. E chi ti ricorda a volte? Ho visto Tardelli, anche se non nominiamo i gioventini, un po' di Antoniani. La testa alta, la testa alta, testa alta e torse.